La campagna del calcio non ci sta. L'ulteriore sospensione da parte del governo di tutte le competizioni e gare dilettantistiche si sta battendo come uno tsunami nel mondo del calcio regionale che chiede a gran voce di ripartire allo stesso modo della Serie D campionato a carattere nazionale e diviso per protocollo da quello regionale solo per i tamponi effettuati 48 ore prima di un match. E così arriva l'iniziativa inedita. Capitani, allenatori e presidenti di 112 squadre regionali di eccellenza e promozione hanno sottoscritto un documento di sensibilizzazione indirizzato al presidente della Lega Nazionale Direttanti Cosimo Sibilia e da quello del Comitato Regionale Carmine Zingarelli affinché sensibilizzano il governo per la ripartenza del calcio campano. Uniti nello spogliatoio e nel momento del bisogno, capitani ed allenatori dei club di eccellenza e promozione della campagna hanno deciso di affrontare in prima persona la questione legata alla decisione emanata dal governo nell'ultimo DPCM del 16 gennaio di sospendere ulteriormente tutte le competizioni e le gare dilettantistiche fino alla data del 5 marzo. Immediata la risposta da parte dei vertici campani del calcio. Il presidente del CR Campania Carmine Zingarelli giovedì 21 gennaio alle ore 17 incontrerà in videocall i presidenti delle società di eccellenza per confrontarsi sulle ultime disposizioni dell'ultimo DPCM firmato dal governo.